Valentina e Asia, durante le feste natalizie avremo sicuramente degli invitati. Come possiamo comportarci? Da dove iniziamo? Allora, il tutto inizia da un aperitivo. Valentina, cosa consigliamo per l'aperitivo? Allora, un prosecco che deve essere fresco e viene accompagnato da degli suzzichini. Asia, i bicchieri come devono essere? Preferibilmente di cristallo o vetro e per il buon ton sono sconsigliati quelli di plastica. Asia, da dove iniziamo per apparecchiare una tavola? Allora, iniziamo dalla tovaglia che deve essere di un colore che risalta i piatti. In questo caso? In questo caso l'abbiamo scelta gialla e i piatti devono, in questo caso saranno bianchi. Carlotta, come iniziamo ad apparecchiare la tavola? Come prima cosa prendiamo il piatto piano e il piatto fondo e li posizioniamo sulla tavola. Dopodiché cominciamo a posizionare le posate. E come le posiziono? A destra mettiamo i coltelli e a sinistra le forchette, mentre sopra il piatto si mette il cucchiaio o la forchetta d'essert. Asia, per quanto riguarda tovagliolo e bicchieri? Allora, tovagliolo lo posizioniamo sopra il piatto, mentre i bicchieri si posizionano sopra i coltelli. Infine, sbarazzati i piatti, li rimpiazziamo con il piattino ad esser. Per quanto riguarda le decorazioni, si può addobbare la tavola con decorazioni che rispecchiano il nostro gusto e quindi che rispecchiano il tema natalizio. Grazie. 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 Grazie.